Vivono in pessime condizioni igienico-ambientali e stannazzano uno specchio d'acqua ridotto ad appena pochi centimetri. La fontana del grande piazzale del giardino pubblico di Caltagirone offre purtroppo questa spiacevole vista ai potenziali fruitori del parco comunale. Le anatre domestiche, i più conosciuti come papere, appena due, almeno quelle in vista, per come si può evincere le immagini, forse preferiscono entrare nemmeno in quell'acqua verdastra e maleodorante. Per questi due animali domestici, pur volendolo, non c'è neanche l'alternativa di trasferirli altrove, in quanto l'unica fontana esistente in città, esclusa la fontana scelba, è quella della villa comunale. Cartacce, piccoli scarti di rifiuti e qualche bottiglia completano uno scenario deplorevole. Sarebbe superfluo aggiungere altro, ma è opportuno dire che questa fontana negli anni è sempre stata un simbolo e un punto di riferimento attorno al quale sono stati costruiti anche detti popolari. L'auspicio è che nel contesto dei lavori di riqualificazione della villa comunale fosse almeno contemplato il restauro della fontana. Una domanda intanto sorge spontanea su quando avverrà il reale avvio dei lavori. Grazie. Grazie.